Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Grace, che mi chiede di parlare del film del 2011 di Drew Goddard, Quella casa nel bosco, scritto insieme a Josh Whedon ed è uscito da noi in ritardo dopo il successo di Josh Whedon e soprattutto di uno dei suoi protagonisti, ovvero Chris Hemsworth, che qui non era nessuno e che poi è diventato Thor e che quindi ce l'hanno mandato anche da noi per questa storia assurda praticamente. È un'infanta thriller, horror, commedia in un certo senso, che lavora su tutti gli stilemi dell'horror postmoderno e riesce a raccontarlo attraverso una visione ancora più postmoderna. Siamo nella storia di questi cinque ragazzi che devono andare praticamente, il classico grosso, il classico ragazzo di colore, quella bellona, l'intelligente, devono andare praticamente il tossico, lo sfatto, devono andare praticamente a passare un fine settimana nella casa di campagna del cugino di uno, ovvero Kurt. Quando arrivano lì vengono già messi in malo modo da questo guardiano che li maltratta, li dà della puttana in una maniera assurda e poi quando arrivano lì noi in realtà scopriamo che questi ragazzi sono in un certo senso comandati da un gruppo di persone che lavora in questa specie di laboratorio asettico dove praticamente li indirizza a fare determinate cose perché se loro non fanno determinate cose, non muoiono in determinati modi, questi antichi che ormai sono migliaia di anni che hanno questi, diciamo, sacrifici umani si incazzeranno e distruggono il mondo. Ogni paese deve combattere appunto ogni anno verso questo periodo per fare in modo che gli antichi non tornino e non deflagrino distruggendo la terra. L'unico modo appunto è fargli fare questi sacrifici attraverso determinati stilemi. La cosa bella del film è che i nostri protagonisti, Dana, Jules, Kurt, Olden e Marty in realtà sono tutti protagonisti personaggi che cambiano perché uno era intelligentissima, lo fanno diventare la bellona e che sculetta, uno è super intelligente e lo fanno diventare quello del football, quell'altro invece che non ci combinava un cazzo era del football diventa un'altra cosa. Tutto per cercare di trovare appositamente gli stilemi che servivano ad ogni antico. E' addirittura quello che succederà per un film assolutamente hilare, una commedia che funziona benissimo da quel punto di vista perché riesce a distruggere tutti gli stilemi in un certo senso, in un certo tipo di horror. Veramente li attacca a fondo senza mai però andare nella vera parodia ma riuscendo ad essere in realtà assolutamente cattivissimo. Sia per il gore alla violenza che comunque scorre a Fiumi sia appunto per l'idea della costruzione con un inizio appunto che vediamo questi che chiacchiano su questa macchinina in mezzo a questa specie di grande centrale che sembrano centrale nucleare mentre chiacchiano con un'altra di errori che sono stati fatti. Poi boom questa scritta in rossa poi si parte con questa prima parte quasi slasher dove però noi notiamo già che questi sono circondati da una specie di gabbia invisibile che non gli potrebbe permettere più di uscire o di entrare. Si vede infatti l'uccello che si pianta e si brucia è già fantastico e fantastica la scena in moto di Green Sassworth, ottima la scena appunto che vogliono scappare col pulmino. Per un film che è un susseguirsi incredibile dopo la prima parte nella parte centrale di citazioni totali che vanno dalla casa a venire in giù a fulci a tutto e per poi sparare nella terza parte quando vanno diciamo così nella cava dei mostri rimasti dai tempi antichi dove viene praticamente citato un po' tutto il cinema dell'orrore uno dopo l'altro senza colpo ferire. Per un film però ripeto dal ritmo omicidiale montato alla stragrande da una splendida Lisa Lassick con una fotografia eccezionale di Peter Deming e soprattutto con una regia che cazzo riesce veramente a prendere i tempi giusti per l'orrore, a prendere i tempi giusti per l'avventura, per la paura. È un film che con una grandissima Sigourney Weaver che apparirà sul finale meravigliosa è un film proprio che viaggia alla stragrande con i suoi bravi attori e con un'idea appunto di cinema che è completamente diversa e quindi finalmente un horror che ragiona su se stesso e che non ripiega le solite banalità e quando ragiona ragiona attraverso però un horror che diventa tale. Perché ci sono dei punti che sono veramente spaventosi, la tensione si crea e tutto questo diventa veramente pessimista con un finale meraviglioso dove loro fanno l'ultimo tiro alla canna e poi chi si è visto si è visto. Per un film assolutamente imperdibile secondo me, come ho detto Chris Hemsworth, ottimo anche Christian Connolly, così come Anna Hutchinson, Jesse William, Richard Jenkins, Bradley Whitford, Brian J. White. Veramente uno più bravo dell'altro per un film che però riesce a regalare a tutti la giusta forza, la giusta spessore anche nei piccoli momenti quando fanno la gara appunto su chi dovrebbe essere i zombie, i zombie contadini e quell'altro vale a tutti i costi per forza vedere il mostro marino che poi lo divorerà. Insomma un film assoluto, uno dei classici film che sono piccoli capolavori, sono sicuramente dei cult grandiosi e per me è uno di quei film che non smetterò mai di guardare perché ogni volta lo guardo praticamente sto bene nel mio Blu-ray e me lo disparerei ogni tre volte a settimana. Perché comunque è un film che ogni volta ci trovo qualcosa di più interessante e poi tutte le citazioni verifiche per uno fissato come me diventano assolutamente perfette se inserite poi in una storia come ho detto in questo modo chiaramente scritta e che appunto ragiona sugli stilemi dell'orrore senza però rinunciare agli stessi eppure riesce a far ridere, eppure riesce ad avere l'azione, eppure riesce ad essere veramente un ottimo film, niente da dire. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia. Questo film del 2011 secondo me è un'opera assolutamente da non perdere per tutti gli amanti dell'horror e per tutti quelli che insomma cercano del cinema che non sia la solita pappa riscaldata.